Una donna di 35 anni e il figlio letto di due sono stati trovati morti a letto in un'abitazione di Melito in provincia di Napoli. A fare la scoperta, stando a quanto si apprende, sono stati parenti della donna che utilizzando un mazzo di chiavi avute dai vicini hanno dovuto sfondare una porta interna per accedere alla stanza dove c'erano i due corpi. Una scena ghiacciante è quella che si è trovata davanti aprendo la porta di casa. Entrambi i corpi infatti erano riversi sul letto e sporchi di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giuliano che ora sono a lavoro per capire cosa sia successo. Da quanto si apprende la donna lavorava in una fabbrica di guanti a Casavatore si sarebbe da poco separata dal marito. Gli elementi raccolti fino ad ora fanno pensare ad un omicidio suicidio anche se al momento non è esclusa nessuna pista. Secondo una prima ricostruzione la donna si sarebbe inferta da sola, diverse coltellate. Ancora ignota la causa della morte del bambino di circa due anni trovato accanto alla madre. A fare maggiore chiarezza sarà l'intervento del medico legale. La donna depressa dopo la separazione dal marito ieri aveva pranzato con i familiari ma nulla raccontano faceva pensare ad una tale tragedia.